La scoperta dell'alba La vita ogni tanto ci riserva qualche bella sorpresa Dal destino vorrei una seconda occasione, per cosa? Penso che comprerò una grande barca a vela e farò il giro del mondo Per un viaggio in Sud a me Nessuna seconda occasione, sai? Un secondo figlio Mi sarebbe piaciuto entrare in questa grande famiglia No, sono contenta di quello che mi ha riservato a investire Potrei fare tante cose in modo diverso No, assolutamente no Per sfondare nel mondo dello sport Ma in realtà aspetto ancora la prima occasione Magari per andare su un altro pianeta No, sono contenta a questo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.